Che cosa ci racconti? A vimmi da, a muo' giù. Cioè? E maledio. La mia povera. E la pavro un galleggio. E poi, e poi, ma adesso dove andiamo? San Donato... Fare una missione al Comparese. San Donato milanese. A fa' che? Ma fa' un'assistenza tecnica, noi ci non dico. Ok, cioè? La dobbiamo rianimare. E' morto. Adesso andiamo noi con la nostra esperienza... E' svenuta? Un'esperienza decennale, diciamo. Ho capito. Aspettiamo quel cazzo di Raffaele, ma Raffaele... C'è brutta Waller, che ne è ruba. Ma lo so. Cristo. Ma lo so, Raffaele.